Non fargli fare tardi a scuola. Noi andiamo! Che fai? Rispondi? Cosa? Non è il mio. Pronto? Matt Turner, ascoltami attentamente. C'è una bomba sotto il tuo sedile. Che succede? Tranquilla, tesoro. Se ti alzi dal sedile, la bomba esploderà. Dovrei fare esattamente quello che ti dirò. Cosa vuoi? I soldi dei tuoi investitori, 208 milioni di euro. Tutto questo per i soldi? Rispondi. Matt ha chiamato un tale. Ha detto che moriremo per colpa tua. Non voglio morire, Matt. No, non succederà. Devi fermarti! C'è una bomba nell'auto. Qualunque cosa vuoi, lascia andare i miei figli. Mia figlia è ferita! Ora facciamo un gioco. Signor Turner, sono dell'Europole. Sono innocente, mi creda. Deve fidarsi di me. Il mio lavoro è non far morire le persone. Mi hai incastrato e voi avete abboccato. Torna a casa, ti prego. Papà, che stai facendo? Riuscirò a trovarlo. Mi tirerò fuori da qui. Non hai considerato una cosa? Che può fare un uomo quando non ha niente da perdere? Ti sto osservando.